Gentili telespettatori, buona giornata. Gianluigi Paragone contro gli Stati Uniti dice da Biden linguaggio inaudito. Di che cosa si sta riferendo Gianluigi Paragone, leader di Italexit con Paragone? Dice così le ultime dichiarazioni di Joe Biden che non fa altro che aumentare il rischio di una guerra mondiale. E di oggi la notizia del violento attacco verbale lanciato da Biden contro la Cina. Il presidente americano ha dichiarato che nel caso i leader cinesi pensassero all'invasione di Taiwan, gli Stati Uniti risponderebbero militarmente. Dice il leader di Italexit, che poi rincara la dose, si tratta di un linguaggio inaudito per un leader mondiale, incurante delle regole base della diplomazia e fa seguito ai ripetuti insulti personali rivolti a Putin ben prima dell'inizio del conflitto. Certo è lecito opporsi alle mire espansionistiche di Pechino, ma non si è mai visto un presidente degli Stati Uniti esprimersi in questo modo nei confronti dei governi e dei leader di altre nazioni. Il mondo, dice Paragone, vuole pace e chiede l'apertura di un tavolo diplomatico che fermi la guerra in Ucraina. La risposta è quella di gettare benzina sul fuoco e addirittura di aprire altri scenari bellici, spingendo di fatto il pianeta verso un conflitto dalla portata inimmaginabile. Intanto in Italia compriamo altre attrezzature da inviare in Ucraina e tutto questo perché Draghi si fa dettare l'agenda da Biden, di cui è premuroso servitore. Ma Draghi non è qui per curare gli interessi americani, bensì per servire il popolo italiano. Cominci a farlo prima che sia troppo tardi. Anch'io mi sono chiesto, quando ho sentito le parole di Biden, ho detto che o è stato avvertito dai servizi segreti di un imminente o di una preparazione dell'invasione di Taiwan, perché se no non mi spiego all'improvviso queste parole. Se dietro non c'è un'informativa dei servizi che avvertono realmente che la Cina si sta preparando a un'invasione, sono incredibili le parole, se dietro non c'è il sospetto imminente di un'invasione. Insomma, in questo caso ha ragione Paragone quando dice che le parole di Biden sono allucinanti. In un momento come questo vai ad aprire una disputa anche con la Cina dicendo guarda che interverremo. In effetti sono parole che hanno lasciato spiazzato anche me. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.